Eccoci qui amici, è l'ora di parlare sempre di basket maschile della Champions League che dopo aver terminato la competizione 2020, seppur in ritardo come tutte le cose quest'anno purtroppo nello sport e aver fatto i fasi preliminari per accedere ai gironi di alcune squadre di Champions Primo turno No, il primo turno è finito Allora, poi le classifiche Le classifiche vediamo Abbiamo il gruppo A Quindi al momento è tutto, ho detto se ci sono notizie importanti della giornata faccio altri video Quindi per il momento, per il momento eh Gustatevi i video di ieri, oggi c'è qualche video già insomma Ci vediamo nel caso escono altri video oggi, altrimenti domani Ciao a tutti, alla prossima, ciao Ciao